Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo presentarvi un progetto. Nasce in Italia il primo portale dedicato al travel vlogging, quindi tutto ciò che riguarda i viaggi e i vlog. Scrivendo nella barra di ricerca di google www.travelvlogger.it avrai accesso al sito web. Ti troverai subito nella home dove troverai alcuni video del momento. Cliccando su i viaggiatori potrai accedere direttamente al profilo dei travel blogger. Nella sezione Italia troverai invece i video suddivisi per regione. Così come se vai su Europa trovi i vari stati e così via per tutti i continenti. Se vuoi inviarci una mail per collaborare con noi, vuoi un aiuto per il tuo viaggio o vuoi semplicemente farci complimenti, vai su contatti e scrivici una mail. Tornando nella home hai la possibilità di iscriverti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato con i video della settimana ricevendo una mail a settimana. Per confermare l'iscrizione, apri la tua mail e conferma. Abbiamo creato anche una pagina Facebook dedicata. Clicca mi piace e inizia a girare il mondo con Travel Vlogger Italia. Aspet Ciao